Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 18 aprile, giovedì santo, il primo del Triduo Pasquale. Oggi la Chiesa commemora l'Eucarestia, che è iniziata il giorno dell'ultima cena di Cristo Gesù. Bene, oggi ammiriamo, contempliamo, adoriamo il grande mistero di Cristo che vuole rimanere in mezzo a noi, talmente vuole rimanere in mezzo a noi che addirittura si fa pane per farsi mangiare, per entrare in comunione con noi, per stare con noi, per diventare l'Emmanuele, il Dio con noi. Sono davanti al tabernacolo. Tabernacolo vuol dire casa, tenda, è la casa di Cristo in mezzo a noi. È povera, è semplice, ma è lui lì, presente in quel misterioso pane dell'Eucaristia. L'augurio che ci facciamo oggi, che possiamo trovare tutti, o questa sera, o questa notte, un momento per andare ad adorare questo mistero del Dio fatto pane per noi. Buona giornata.